Il mio amico che ha sentito il sonno è arrivato da là, ha sentito il voto prima di me, dopo aver il telefonino e ha chiamato subito. Perché ho visto la ragazza che ha tentato di sollevarci, poi invece è carolata. Vittoria De Paoli morirà poche ore dopo all'ospedale di Conegliano. Era passeggera dietro all'amico di 17 anni in sella ad uno scooter Piaggio 125, insieme probabilmente per fare un giro dopo la festa. Il giovane alla guida del mezzo si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 di sabato sera, i due stavano facendo un giro probabilmente con loro su altri mezzi, c'erano degli amici. Tutti assieme avevano frequentato la stessa festa a pochi metri dal luogo dell'incidente. Vittoria era di Maser ed era stata accompagnata alla festa dalla mamma. Non è ancora chiaro come mai si trovasse fuori e sullo scooter di un amico. Il ragazzo stava percorrendo via Rialto in direzione via Calnova, quando all'incrocio con via Borgata Grotta deve aver perso il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente contro questo lampione e la recinzione di un'abitazione. Ho sentito un gran botto e sono uscito credendo che fosse scoppiata una bombola, invece purtroppo ho riscontrato il macello. Mi hanno buttato giù anche il pallo delle luci. Nell'impatto i corpi dei due ragazzi sono stati sbalzati a terra per Vittoria, che era cosciente subito dopo la caduta. I traumi interni però si sono rilevati troppo gravi. I soccorsi sono stati chiamati dal proprietario dell'abitazione sul posto, sono arrivati i carabinieri. E' ancora da chiarire che cosa sia accaduto quella notte, che cosa abbia spinto i giovani ad uscire, come non è ancora chiaro se i due avessero addosso il casco al momento dell'impatto. Quello che è certo è che ora c'è un giovane che sta lottando tra la vita e la morte e che l'incidente è avvenuto in una curva definita maledetta da tanti in paese, un punto bruttissimo in una strada in cui biciclette e trattori arrivano sempre ad alta velocità. Ci vorrebbe uno stop, uno di quelli che ha un rallentatore, sa quello addosso, e di là mettere un 30 all'ora, 30 all'ora, perché i trattori ormai vanno a 50 all'ora, vanno su per le vigne a lavorare, non tornano giù con la fretta, con questo, con l'altro, perché devono fare il lavoro, pure la pioggia, eccetera, corrono come mati.